bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su gta 5 online questo parkour dettome è stato creato dal magnifico park mods che è un grande vi consiglio di passare nel suo canale se non siete iscritti vi lascio il link e il link dell'attività in descrizione allora salta sui ok perfetto allora sali su perfetto guardate lo pass qui grandissimo pass qui ok rega voi non potete capire sta parte qua mamma mia ho quitato tre volte per sta parte qua mamma mia mannaggia te sui mannaggia park mods ok vai vai ma non è questo il problema è alla fine il problema non qui aspettate aspettate vi faccio vedere se non cado è lì il problema lì vi indico con una freccia lì proprio lì avete visto ok poi eccoci di nuovo qua ok vai vai mannaggia te park mods questo parkour è difficile cioè in verità mannaggia me che l'ho avviato però lo volevo giocare che vai pasqui mannaggia te mannaggia dai no come fatto posso cadere così no vabbè no vabbè ok vai no se ce la faccio regà festeggio con un bel potere festeggio con un bel potere se ce la faccio no ok eccoci di nuovo qua tacchettini suini ok io mi sono messo completa di park mods che porta fortuna guardate il suino lagone lo sotto comunque non è lagone e l'attività che è buggata tutta glicciata ok vai 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 glicciata perché park mods è usato alcuni pezzi delle gare ecco perché tipo vedi giocatori buggati salta no non ci credo non ci credo un bel potere grandissimo ale con figoni e si festeggia l'obiettivo è completato questo obiettivo completato di fare quei due equilibrio tosti mannaggia mi se cado qua però mi se cado qua o mamma mia faccio un bordello faccio ok no però non ti prego poi preghiamo preghiamo in park mods vai no 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 vabbè no ok siamo di nuovo qua mi seca no vabbè si è vendicato è giusto però però puoi fare a meno no però eh mannaggia guardate quanto parkour dobbiamo fare e noi ma siamo qua vabbè mamma mia come ha fatto un porco ma sa farlo vabbè facciamo sto parkour dai oh vai perfetto ma non è difficile ecco non è difficile fa ecco l'ho appena detto appena detto è caduto vabbè vabbè mamma mia mummau mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia tutti col assume col borsone o dai contro il muro sali vai au quest'ha fa abballa la maracana vai vai di qua mi uccidete ora mamma mia vi blocco dagli amici vi blocco dagli amici mannaggia oh oh sui mannaggia angelo vai via vai via ok ce l'abbiamo fatta oh 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 mamma mia mamma mia vedi qua mamma mia un corno mamma mia un corno ok mamma mia non sapete guardate guardate i minuti sotto a destra sembra poco nel video che vi taglio tutto così però guardate i minuti in basso a destra prima erano trenta minuti ora sono diciassette quindi siamo da tredici minuti che stiamo a fare sto parkour mamma mia però eh mamma mia tredici minuti di parkour e saranno tre minuti e quattro di video vabbè oh forse ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta no vabbè no vabbè guarda pure scena ecco mamma mia polisclerore mamma mia stradificio sto parkour angelo dai ti prego vai via dai fai l'uomo ok perfetto prima non riuscivo manco a fare sto equilibrio ora riesco a farlo perfettamente mo ho parlato raga mo ho parlato mo cado ora vi immaginate che cado ora mi porta sfiga da solo ok ok vai oh io non voglio più fare parkour voglio star qui poteva potevano mettere almeno un check no un checkpoint no però se cado qui se cado qui mamma mia mamma mia dai dai ti prego ti prego ti prego si 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 non ci credo mi sono stancato a fare il parkour volevo ucciderlo però sta a far potere grandissimo pasqui ti volevo arare però hai fatto potere quindi sei amichevole che ti vieni che ti vieni ti vieni che il sole il sole ah il parkour ti vieni che quindi eh ti vieni che il parkour sui che ti vieni che sui ti devo arare mannaggia te mannaggia ti devo arare male oh guardatelo guardatelo il suino che fa box mannaggia te mannaggia mo te scrivo io sui stavolta te scrivo io invece no un bel potere facciamo pace facciamo pace facciamo pace facciamo pace sui facciamo pace facciamo pace sui facciamo pace facciamo pace sui muori te però eh devi morire aiutami grande 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 ok grandissimo male facciamo pace facciamo pace facciamo pace facciamo pace facciamo pace prendi il treno vai tu che mi ha ucciso prima maledetto eh eh vieni qua vieni qua mamma mia mamma mia scappiamo 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 vai 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 ci vogliono arare quelli là ok vai 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 dai 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 però ce l'avevamo ce l'avevamo fatta eh non si è ricordata dai 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 oh mamma mia no come ho fatto no ora mi dovete spiegare come ho fatto mamma mia mamma mia sto a rompere il joystick mamma mia dai guardate lo pasco atletico ah sui ah sui ah ce l'hai fatta tu muo arrivo tranquillo muo arrivo te cadi giù ah non sei morto non sei dove scappi dove scappi vabbè io non voglio stare a seguire questo qua vabbè prendiamo il treno ci vediamo ora ok eccoci di nuovo qua grandissimo pasqui che mi ha aspettato grandissimo che fa il potere lo famo anche noi grandissimo pasqui no 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 c'è il sui non c'è il sui non c'è il sui prendi il treno prendi il treno prendi il treno vieni pasqui con me vieni e ormai col sui non ci vuole arare come ho fatto sali ah non ci vuole uccidere più non ci vuole si però levati angelo no è angelo no no non è angelo ah si è angelo vai sui odio quei suoni che fanno così mamma mia cadi giù ok prendiamo il tutto a un colpo senza manco fermarci ok col sui lo so che si guida dal telefono però io guido qua perché non ce la posso più fare basta basta è la quinta volta che rifaccio sto parkour mamma mia mamma mia mannaggia a te parkmots però grandissimo bellissimo parkour vabbè volevo completarlo e lasciare un bel like però non so si l'ho lasciato prima il like perché non l'ho completato però l'abbiamo finito per provarlo però era impossibile quindi se che vi parlate che vi parlate vi metto a pausa così almeno non parlano se vi è piaciuto sto parkour impossibile di parkmots il suino lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima bella raga ciao Grazie a tutti.